Guido prima di tutto perché mi piace e poi perché sono l'unica in famiglia che lo può fare. Infanto sono un po' la sportiva della famiglia. Mio marito non piace assolutamente guidare, però gli fa comodo che io abbia la patente. E le succede di adoperare qualche volta lo specchio retrovisore? Eh sì, certamente, perché è utilissimo. Grazie, sai perché glielo ho chiesto? Perché ci accusano di adoperare lo specchio soltanto per metterci il rossetto.